Riparte con 300 matricole, ma soprattutto con aria nuova sia nei confronti di Fondazione Cassamarca che del Comune, l'anno accademico di Cafoscari. Alla giornata di accoglienza delle matricole Gianfranco Gagliardi, membro del Consiglio di Indirizzo di Fondazione, è tornato a ribadire la volontà di lasciarsi alle spalle le questioni legali con l'Università. La Fondazione ha adempiuto gli obblighi ai quali l'ha chiamata la magistratura. Ciò che ci ha rammaricato è stato constatare che Cafoscari nei suoi vertici ha inteso fare la scelta del contenzioso legale che poteva essere evitato. Faremo di tutto, dice, perché l'Università resti nelle strutture di Cassamarca e rivolge un nuovo appello al mondo imprenditoriale in grado di sostenere l'esperienza universitaria in questo momento non facile. Quanto alla nuova amministrazione di Cassugana sta dimostrando, dice, un interesse che prima non c'era verso la cultura e questo può aprire nuovi scenari. Non immagino per carità coinvolgimenti economici del Comune, ma una condivisione strategica potrebbero aiutare dei percorsi ulteriormente virtuosi che potranno, io lo auspico profondamente, consentire a lungo la prosecuzione di questa esperienza in Treviso. Adesso è giunto il momento che anche l'amministrazione comunale si renda conto, cosa che non è accaduta precedentemente, che l'Università Cafoscari che è qui presente è una risorsa straordinaria con la quale è necessario avere delle relazioni concrete e positive, magari ipotizzando percorsi progettuali insieme. Il nuovo anno accademico parte quindi con ottimismo e alcune novità. I nuovi master sono la novità di quest'anno, in particolare il master in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane costituisce sicuramente una novità non solamente a livello di Cafoscari ma anche a livello nazionale.